Mi piace iniziare la giornata secondo i miei ritmi. Spesso ho bisogno di un po' di tempo per me, in modo da poter arieggiare la testa. O di occuparmi di altre cose importanti della vita. Intendiamo dire che sei tu stesso a organizzare la tua vita lavorativa di tutti i giorni. Potresti iniziare qui. Ma potresti anche trovarti presto lì. L'importante è che con noi puoi procedere al ritmo che preferisci. Puoi affrontare molte cose. Ma puoi anche prenderti il tempo che ti serve. Non importa dove o come lavori, puoi sempre contare sul tuo team. A proposito, siamo molto orgogliosi di ciò che facciamo. Perché rendiamo possibili molte cose. Grazie a noi, tante persone si muovono oggi. E grazie a te, anche in futuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.